Ciao, grandissimi! Sono Indro, ragazzi, in cui oggi ho parlato di questo nuovo video, ragazzi, un video molto interessante e veloce. Infatti, ragazzi, vi riporto alcune clip esclusive di gameplay da SESKEDE Syndicate preso dal canale Stuf Magazine, se non sbaglio. Vi lascio il link in descrizione, ovviamente, passateci se volete, è un canale, mi sembra, inglese, che ha riportato da cui comunque ho preso queste clip, che sono alcune clip di combattimento di Syndicate, con il nostro Jacob, e alcune clip sulla carrozza. Ragazzi, volete vedere, il combattimento è molto bello, secondo me, piccola analisi, molto veloce, vi faccio. Molto più velocizzato, molto più rapido, è possibile fare sempre solite combo, ma sono tutte molto più velocizzate e più rapide, e quindi questo qua è sicuramente un punto a favore del gameplay rispetto ai precedenti capitoli. Dal punto di vista, invece, come vediamo adesso, dei gameplay sulle carrozze, ricordiamo che si può, oltre a buttare la carrozza, si può anche effettuare proprio dei propri combattimenti in cima alle carrozze stesse. Poi, come vediamo, è possibile speronare un po' comunque le carrozze fra di loro, attaccare proprio le carrozze per buttarle fuori dalla strada, e diciamo anche che i movimenti sono molto realistici, anche, forse, anche un po' troppo catastrofici. Però, comunque, secondo me, anche questi sono stati molto ben realizzati. E soprattutto, una cosa che volevo focalizzare, prima di finire il gameplay, come potete vedere qua anche alla fine, è possibile anche che veniamo attaccati sulle carrozze, se abbiamo dei attacchi, è possibile poi, sufficientemente, avere dei conflitti sopra queste carrozze. La cosa che mi ha impressionato sicuramente molti più sono i combattimenti, la velocità e la rapidità di questi combattimenti. Quindi, questa qua è la piccola cosa che ho notato più di tutte e voglio sicuramente riportarvi. Lo so che l'ho già stato molto veloce, ragazzi, mi scuso, però, era solo questo che avevamo presente, ci è stato riportato dalla Gamescom di Cologna, oltre al gameplay che ho già fatto sul canale. Quindi, ragazzi, mi faccio un bel mi piace, commento, iscrivetevi a farmi sapere la vostra impressione, andate qua sotto nei commenti sul combattimento, sia normale a pugni, diciamo, uno contro uno, che sia sul gameplay, sulle carrozze. Quindi, ragazzi, ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao! Ciao!